qua ma vado con la mia batteria belli pure questi qua eh non sono malaccio se no ma dillo genna lo dice vai 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 corri corri e mezzanotte e nessuno che spara guarda che schifo solo quelli e noi che schifo questa nessuno che spara che vado con questa qua la lascio qua ci sono gli alberi qua porca vabbè va allora allora accendo la cosa mi sa che non si è visto ragazzi eh no mi sa che non si è visto peccato era bella vabbè normalissima normalissima arrivano i messaggi anche a voi la famiglia cos'è questo ah bello cosa qua si 5g arca 5g era si si ho capito dalla spola guarda lì che sono contenti guarda quanta roba c'è ancora qua dovevamo scendere prima annaggia la miseria ma faccio questa qua adesso la faccio vieni 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 muovo l'accendo e si è storto però come mai si è storto un po' stortina guarda prendo in mano sti cazzi ma dillo non lo dice demonio non è che dice accendere 18g eh occhio a questa qua ragazzi si si l'ambulanza vieni non avete paura bella questa qua il fu il fumo che fa stellina è umido stando canna devi mettere la polvere in mezzo hanno pigliato genna ma vicino al cosmo ma come le hai accesi genna guarda lì che brucia ancora non ti avvicinare guarda quanti che mi scrivono oh c'hai i 30 e uno neanche eh fallo 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 adesso no dopo solo uno ne hai purtroppo si triste mini thunder bellissimo mini thunder questo qua lo lancio eh però devo sai che lo dice eh eh acceso gennaro di sandokan la stella che cosa mi fanno all'orecchio questi qua accendo questo qua eh accendiamo lui quanto fa la spoletta ultima non ci sento più gennadillo ciao non è che ho preso ciao fai la stella di 5 giri io la faccio facciamo la stella vediamo come viene però l'ultimo 30 eh fallo eh poi apriamo lo scumante eh dove ce l'hai i bicchieri lei si intitola con un po' scuro ah belli quelli là belli belli alti quelli là vai gennaio 30 30 grammi dun bum dun bum eh qua bisogna allontanarsi però le orecchie partono povere orecchie eh 100 grammi vai 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 col copro ma qua lo metti dillo non lo dice corre genna dai 100 grammi vai vai 100 eh 100 grammi lontano eh un po' stortina corri genna giamburrasca porca nooo 100 grammi bella 100 grammi bellissimo bellissimo neanche ancora 10 grammi niente tutto finito abbiamo solo i 5G e dentro qua chi è che fa i fuochi la i fuochi scusate era 100 colpi quella 100 lanci vabbè 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 vediamo che fanno loro eh ho preso troppi i 5G devo fare la stella se no allora la spesa come l'ha fatta qua la spesa che ha preso questo poi lo usiamo aspetta lo mettono nel frigo allora l'ho messo nel frigo e questi qua pure lì questo video qua sarà il più lungo ma scusami perchè ha fatto un altro video ma che ca... ma di eh li aveva finiti no lo dice no lo dice sono finiti eh una scatola mi è rimasta ha solo una? eh ancora? è lì che scuola è lì che scuola